Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! L'overlay del medioevo. Dai, mi piacerebbe fare l'allenatore di pallavolo femminile? No perché mi ammazzerei di rasponi quindi no. Andiamo. Io guardo dalla televisione quando capita. È difficile, è difficile, è difficile. Pietro Paolo Negro, due mesi. Buongiorno Pietro Paolo! Ciao bello, come stai? Sì, sì. Ciao, ciao, ciao. Andiamo? Ciao Pietro Paolo! Io prendo questo momentaneamente. Hai visto Davies? Davies perché lei non è dei 10.000? La sto aspettando. Ma perché streamico sto? Perché mi diverto. Che cosa? Streamico sto pagliazzo. Ah parli di me, parli. Ciao invidioso. Siamo tutti dei pagliacci. Come va la tua triste vita di merda? Dimmi un po'. Ciao, su, che pezzo di coglione. Tu e quella stronza di merda che doveva abortirti. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, non mi secco. Sì, sì, non mi secco. Sì, non mi secco. Sì, non mi secco. Sì, non mi secco. Vai a fare tu il pagliaccio, coglione che Dio caro ti prendo la trombetta, te le infilo nel culo e ci suono dentro. Madonna, santa. E che rumore fa? Eh beh, giusto. È quella, è quella. Come sta? Come sta? Per fare il Rio Master, non dica per favore. Salve Barba Nera. Merda. Merda. Buongiorno Peseudio. E sono due mesi, non ho qua gli alert, ma grazie mille, saluto il tuo amico che si chiama Raul. Grazie per il secondo mese. Grazie. No, chiedo. Posso parlare in corsivo? No. E vabbè, e vabbè. Masseo. Ah, ma forse mi sono fatto la barba rosa o i capelli rosa. Arrivo. Oh mio Dio! Ed eccoci! Let's go! Let's go! Let's go! Merda! Cristian, mi scusi! Ce l'abbiamo fatta, Masseo! Le ha fatta? Mi piace Nico Pandetta? Chi cazzo è Nico Pandetta? Andiamo. Eeeh, porco di Iaz! Porco di Iaz! E che cazzo devo fare io più di così? Porco di Iaz! di Tua madre troia! Si mangia o non si mangia? Allora, diciamo che dovrebbe essere troia. E' pronto, Iaz ragazzi, vado a pranzo. Mi prendi i capelli, figa! Vabbè. Vabbè. Andiamo? Un momento. Sion, esatto. Sion, io non posso questa sera alle 22. Come tutti gli update che sono usciti dalla prima patch fino appunto alla 21.30. Saluto subito un po' di ragazzi che stanno già guardando la live. Buongiorno Teo, buongiorno Reta, buongiorno Diffo, buongiorno Dark, Sirius, Lorenzo, Edo Mariani, Samaritan, Albe la Marmotta, Mattia, Alex, Ilcado, Elfe, Cinzi, Gabri. Grazie mille, Gaspa. Dopo parte l'alert appena switcho, non ti preoccupare e ti ringrazio. Mi male, sarei un leone. Benvenuto, Mealg! Dai, ciao ragazzi, buon pomeriggio! Lo scarabeo stercolaro, no, io non... Grazie, Mealg, benvenuto, grazie di cuore, grazie di cuore! Madonna Troia, buongiorno! Ma buongiorno anche a lei e alla signora Madonna, come sta? No! Salutiamo, non era così, non era... Oh, no, no, non era così. Come va? Siamo in after, siamo andati a valare questa sera, aspettavo solo che iniziasse la live. Ora un saluto a tutti gli amici in after che non hanno ancora riposato, ciao ragazzoni. Allora, io ve lo dico, oggi sono bello fresco. No, il caldo non fa ragionare, raga. Sbrindella la scarza elfa, il froden. Non so se avete visto oggi tutto della live. Non mi ricordo neanche il nome, la principessa Scraddle, tipo una roba del genere. No dai, cominciamo subito con lo schermo nero, io potrei impazzire. Merdo. Io potrei impazzire. Madonna mia che... Ah, lol! L'abbiamo vinto, abbiamo vinto, easy. Easy! Ma non mi l'ho fatti fuori! Ma non so se li ho fatti fuori! E' la mozza del guascio! Ma come la mozza del guascio, mi scusi? Let's go! Ehi, ho fatto la mozza del guascio per Eira! Merda! E' merda che si, l'avrò fatti i secchi 3-4! E' diciascara, semana, troppo gentile. Spiga fluttuante! Eh no, aspetta, questo è il Berta! Berta! Merda! Sottolineatura, Berta, sottolineatura, regala due abbonamenti. Non regali! Sottolineatura, Berta, sottolineatura, gifti dati a run, sub, tu Leo, sottolineatura, barra, sottolineatura. Sottolineatura, they have given 26 gift subs in channel. Grazie, Berta! Loro, 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 loro! Spiga, sottolineatura, fluttuante. Parte della ciurma? Parte della nave! Buongiorno, Spiga! Buongiorno! Grazie, Manale, che dobi 10.000 di fritteglio per lei! No, dai, non! Marca puttana! Poi, io sono l'ultima persona di cui dovete parlare di moda. Non capisco un cazzo, non me ne mai frega un cazzo. Sei quella puttana di tua madre! Porco di c***a puttana! Ti mette il cazzo in c***o! Figlio di puttana! Devi scoppiare! Sciobbelo! Su, sciapisselo! Forlìììì! Forlììì! Forlììì! Grazie! Forlìììì! Figa merda! Guarda! Ah, porca troia! Ma ti pare? Mi prendi i capelli, figa! C***o! Grazie.